Carissimi Settempedani, ho l'onore di essere il portavoce di questo gruppo di Vigili del Fuoco. Io sono il caposquadra Marino Colonna. Volevo ringraziarvi perché in questa settimana che abbiamo passato con voi abbiamo percepito il rispetto e l'ammirazione che voi avete per noi. Però posso assicurarvi che noi vi abbiamo osservato con la stessa ammirazione e con lo stesso rispetto perché abbiamo trovato persone sempre dignitose, sempre tolleranti, sempre molto educate e gentili. Abbiamo visto che tante persone sono state sorprese da questo dramma in certi momenti nei quali erano magari già rimasti feriti da qualcos'altro come molte volte, spesse volte